Ben trovati con le notizie di sport di ATV Marche in questa edizione del lunedì nella quale andiamo a ripilogare tutto quello che è successo nel fine settimana ricominciando dal calcio in campo Serie D ed eccellenza i risultati del campionato dilettante Gironef che si è giocato tra sabato e domenica. Ad Avezzano la vittoria del Montegiorgio 1-0, Castelfidardo-Real Giulianova 1-1, Forlì-Savignanese 1-1, a Francavilla la vittoria del Campobasso 2-1, San Nicolò che vince a Recanati 2-0, San Morese-Vastese 2-1, San Giustese-Sernia 1-1 e a Sant'Arcangelo la vittoria nel finale della Iesina per 1-0. Rinviate al 23 di gennaio Matelica Pineto e al 30 di gennaio Agnonese e Cesena per una classifica che vede in testa proprio il Cesena con 47 punti, Matelica 40, San Nicolò 36, San Giustese 34, Pineto Recanatese 33, Francavilla 31, Montegiorgio 29, San Morese 28, Vastese 26, Savignanese Giulianova 25, Campobasso 24, Iesina 23, Sant'Arcangelo 21, Forlì 20, Avezzano, Isernia con 18 punti, Agnonese e Castelfidardo a chiudere con i Molisani a 17 punti e il Castelfidardo a 13. Prossimo turno già nella giornata di mercoledì, turno infrasettimanale, Campobasso, Sant'Arcangelo, Castelfidardo, Avezzano, Cesena Matelica che spicca nel programma, Isernia, Recanatese, Montegiorgio, Francavilla, Pineto, Forlì, Giulianova, San Morese, San Nicolò, Agnonese, Savignanese, Iesina e Vastese San Giustese. In eccellenza invece si è giocata ieri la giornata di campionato, la vittoria della Pergolesi in casa dell'Atletico Alma per 2-0, Atletico Gallos ha sofferrato 3-2, Camerano batte il Fabriano Cerreto 1-0, Marina Fossombrone 2-1, Montefano Urbani a 0-0, la vittoria della Porto Recanati 2-1 in casa del Monticelli e Porto Sant'Erpidio passa la Biagianazzaro 2-0, la vittoria del Porto d'Ascoli in casa della San Marco Lorese 2-0 e Tolentino, Grotta Mare 2-0. La classifica con il Fabriano Cerreto che torna a tiro del Tolentino, i Cartai comandano con 35, i Cremi si seguono con 34, poi Urbani e Porto Sant'Erpidio 31, Marina 29, Pergolese 28, Fossombrone 27, Montefano, Porto d'Ascoli, Servigliano, Atletico Gallo 25, Sasso Ferrato 23, Camerano 21, Atletico Alma, Grotta Mare 20, Porto Recanati 17, Biagianazzaro 15 e Monticelli che chiude con 6 punti. Importante la vittoria in eccellenza in casa della Marina 2-1 contro il Fossombrone, sentiamo nella dopogara le parole di due tecnici. E' andata bene nel risultato, non so, contento il primo quarto d'ora e i dieci minuti finali che si è sofferto troppo per com'è stata la partita. Giocavamo contro una squadra che sicuramente ha organico pieno, abbiamo visto che ha messo in difficoltà tutte le squadre, quindi è una partita complicata. Un po' di confusione ci può essere stata perché la voglia di portare a casa un risultato che domenica scorsa ci era sfuggito proprio gli ultimi secondi. E quindi in settimana glielo ho detto i ragazzi, i giudizi cambiano da dieci secondi di differenza. Domenica a dieci secondi alla fine il Marina era fortissimo, ha battuto l'Urbania che non aveva perso mai una volta, invece dopo per un gol non deve essere così. I ragazzi stanno lavorando bene, noi sappiamo che siamo una piccola realtà, ma proviamo a dare fastidio. Se devo essere sincero e devo guardare le occasioni che ci sono state, penso che la sconfitta non la meritavamo, almeno questo poi è il mio parere. Anche il secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo colpito un palo, però è logico che siamo andati sotto di due golle, non era facile. Non dovevamo andare sotto le golle, ma c'è anche da sottolineare che in tutto l'arco della partita io ho visto due tiri in porta del Marina e due golle. Sono stati cinici, sapevamo che il Marina è una squadra cinica, giocano in un campo qui che noi non siamo abituati in campi stretti così. In più il terreno non è proprio ideale per noi perché siamo una squadra un pochino più tecnica, quindi abbiamo un pochino sofferto. Ma fino a un certo punto, perché poi abbiamo ribattuto azione su azione, abbiamo creato anche tanto il secondo tempo. Queste sono partite, io chiamo partite sporche, che si vincono su degli episodi, su delle mischie, su delle giocate singole. È stato più bravo il Marina, complimenti al Marina, anche se io, i miei ragazzi, non ho nulla da rimproverare perché hanno fatto una buonissima partita. Per quanto concerne la pagina del calcio, l'appuntamento come ogni lunedì per questa sera, 21.20, lunedì nel pallone, su ATV Marche e canale 12, in streaming sul sito internet www.etvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di ATV per occuparci di Serie C. Ancora la sosta in vista però del turno e del campionato che ricomincerà sabato prossimo, tra mercato dunque e questioni varie, parleremo di Vispesaro, dei colpi di mercato del Fano, di come Fermano e Samb si preparano a tornare in campo. Lo faremo con il collega del resto del Carlino di Pesaro, Giorgio Guidelli, terza parte dedicata invece alla promozione e in particolare all'Anconitana, il terzo successo di fila ieri contro il Mondolfo, ne parleremo con il collega del Corriere Adriatico, in questo caso Daniele Tittarelli. Appuntamento alle 21.20, questa sera ATV Marche, lunedì nel pallone. Dal calcio al basket perché è arrivata la prima vittoria di Boniccioli sulla panchina della VL Pesaro, un successo all'overtime ma di fondamentale importanza per la VL contro la Fiat di Torino nello scontro salvezza, un successo appunto che rilancia nell'anticipo di mezzogiorno le quotazioni in classifica proprio della VL. Un approccio fortunato nella tripla di Dominic Artis che permette l'overtime sulla sirena, tutto cuore nel parziale di 10 a 2 del supplementare che poi vale lo scatto decisivo appunto per la VL su Torino. Sfortunata la Fiat che ritrova comunque in Jamil Wilson sostanzioso su entrambi i dati del campo ma non riesce ad uccidere la partita che più volte gli passa tra le mani. Overtime appunto particolarmente spumeggiante perché Dallas Moore e Jamil Wilson paiono andare a ristabilire le distanze ma solo 89 a 93 con 3,45 da giocare. C'è solo Pesaro in campo, 10 a 2 come abbiamo detto il parziale che a un minuto dalla fine con le triple di Blackmon e Artis vale il 195 di massimo vantaggio. La guardia spende fallo su Wilson dall'arco a 20 secondi, 2 su 3 e rimessa ancora a favore dei piemontesi a 19 secondi. Carr manca la tripla e Blackmon invece congela il risultato e il punteggio finale dalla lunetta e dunque finisce 102 a 98 per la VL Pesaro. Ieri era però la domenica del derby, marchigiano di basket tra Iesi e Montegranaro, ancora una volta quasi verrebbe da dire come da tradizione vittoria della Poderosa con l'Aurora beffata nel finale all'esordio di campionato. Quindi un girone fa, Montegranaro aveva vinto per 73 a 70 in casa dopo il giro di Boa, vince 79 a 83. Dunque una partita che si porta a casa la Poderosa Montegranaro in particolare con un super amoroso che si distingue in campo per essere per risultare. Poi di fatto il giocatore più decisivo del parquet ed ovviamente in maglia giallo-blu. Il VL ora con la sconfitta, la prima sconfitta della Lube di De Giorgi sabato in quella di Perugia in Superlega. Una sconfitta che brucia, che magari mette ancora nudo i limiti caratteriali dei bianco-rossi che però già domani hanno l'impegno in Champions contro lo Zaxa. Dobbiamo sicuramente imparare a essere un pochino più cinici perché ne abbiamo le qualità. I primi due set siamo arrivati a un passo per chiuderli. Sono stati un pochino più bravi loro, meno bravi noi in quel momento ma siamo andati sempre punto a punto. Sono stati due set veramente duri per una parte, per noi e per loro, però alla fine loro hanno avuto uno spunto migliore. Questo dobbiamo cercare di migliorare. La differenza in queste cose sono poche, una battuta in più, un attacco, una difesa. Terzo set, credo che la reazione nostra è stata buona, importante perché abbiamo continuato a giocare nonostante aver perso questi due set ai vantaggi. e questo mi è piaciuto molto, soprattutto abbiamo migliorato qualcosa in difesa. Il quarto è un aspetto che sicuramente dobbiamo cercare di rifletterci su e comunque a parte riflettere che non è che c'è da riflettere tanto, bisogna resistere un pochino di più sia mentalmente che tecnicamente perché subiti questi tre punti nella fase iniziale che avevamo iniziato anche abbastanza bene, ci siamo un po' destabilizzati troppo, nel senso abbiamo perso un pochino di fiducia, di tranquillità, di qualità. Bisogna resistere perché sono squadre che possono avere dei momenti che ti mettono un pochino sotto ma dobbiamo cercare di farlo per due ore, non per un'ora e mezza. Gli avversari contro i quali combattere per vincere qualcosa sono questi, quindi le problematiche saranno sempre queste qui. Dobbiamo imparare a risolverle. I primi tre set credo che siamo stati completamente sempre in partita, i primi due ci è mancato pochissimo, il terzo abbiamo reagito bene, da questo punto di vista ci sono esposte ma bisogna portarle un pochino più a lungo. Queste partite bisogna prepararsi a giocare due ore e mezzo così, con questa intensità, riprendere, resistere, ripartire. Credo che bisogna perdere fiducia, abbiamo qualità, ci alleneremo e cercheremo di migliorare questo aspetto. Ora c'è lo Zaxa, adesso domani inizieremo il periodo Zaxa, nel senso che domani pomeriggio ci rivediamo in palestra, faremo una breve analisi di questa partita ma bisogna orientarsi immediatamente perché sarà un'altra partita di quelle che ci metteranno alla prova dal punto di vista della tenuta. Nel campionato di Serie A2 invece la beffa per la Golden Plast Potenza Picena nel girone bianco, battuta alla mezza 3-2, 19-25-18-25 per la Golden Plast nei primi due set, poi la rimonta dei padroni di casa 25-23-30-28 e 15-11 al quinto, per la Menghi Shoes di Macerata la sconfitta sul parchè della BCC di Leverano 3-1 in questo caso, anche se la Menghi Shoes era passata avanti con il parziale di 25-22 nel primo set, poi 25-20 nel secondo, terzo e quarto set per i padroni di casa. Nel girone blu la Videx Grotta Zolina non l'ha potuto contro la Gassales di Piacenza, 3-1, 25-14, 25-21, 22-25, 25-21 i parziali di questa partita. Ferma invece per il turno di riposo la Lardini Filottrano nel campionato di Serie A1 di Vole e Donne, noi ci fermiamo qui, tutte le news come sempre le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarque.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi, arrivederci. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.